Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Oggi è una giornata importante che fa parte di un percorso che stiamo portando avanti come Movimento 5 Stelle di presentazione dei programmi che porteremo avanti per la prossima campagna elettorale che saranno appunto il programma del Movimento 5 Stelle. Oggi parliamo di politica estera, programma recentemente votato settimana scorsa. Intanto nel ringraziare tutti quelli che hanno lavorato a questo programma vorrei farvi notare un dettaglio che per noi è significativo. Siamo l'unico gruppo politico ad oggi, praticamente un anno dalle prossime elezioni, a parlare di programma elettorale anziché di lotte intestine per la scalata al potere all'interno del partito. È qualcosa che ci contraddistingue da sempre e che oggi è cristallino in queste conferenze stampa e nel percorso che stiamo facendo. Il programma di politica estera, come tutti gli altri, in realtà del Movimento 5 Stelle segue due direttrici principali. Una è l'interconnessione con gli altri programmi. Parlare di politica estera oggi significa parlare di politica energetica, di politica del lavoro, significa parlare di approvvigionamento delle risorse idriche, significa parlare di capacità e di connessione con gli altri paesi del globo. Basti pensare che, secondo innumerevoli analisti, la prossima terza guerra mondiale potrebbe essere combattuta sull'approvvigionamento delle risorse idriche anziché sul classico approvvigionamento di petrolio o di altre risorse energetiche. Questo è un cambio epocale che noi prevediamo nei nostri programmi. Il nostro programma, ad esempio, di energia, prevede l'uscita, l'indipendenza dalle fonti fossili entro il 2050, ad esempio. È un percorso che è comune e che è interconnesso con gli altri programmi. E soprattutto è un programma che ha, come seconda direttrice, la sua prospettiva di lungo termine. Ovviamente analizziamo la contingenza storica e quindi le questioni attuali, le questioni che sono in questo momento più significative, ma è un programma che ha un respiro di lunga veduta e che parla quindi anche di cooperazione, parla anche di come evitare che alcune circostanze si verificano, piuttosto che parlare sempre di come tamponare l'emergenza. Ecco, crediamo che il tamponare l'emergenza sia sempre stata la colpa della politica che ha governato fino ad oggi. Gli scenari che oggi stiamo vivendo non sono nati per caso, sono frutto di errori ripetuti, se non addirittura di premeditazione, come alcune guerre per procura che abbiamo in questi ultimi mesi davanti agli occhi. Il nostro è un programma, e soprattutto dopo la votazione dei nostri iscritti e quello che ci arriva è proprio questo, è un programma che definirei soprattutto serio e responsabile. I primi tre punti indicati dai nostri iscritti sono sovranità e indipendenza, contrasto agli accordi come il TTIP e il CETA ed Europa senza austerità. Cosa significa questo? Significa che il messaggio forte e chiaro è che quello che oggi ci sta condizionando nei rapporti strategici europei e negli accordi non va più bene a nessuno, non sta più bene a nessuno. Allora, siccome è una domanda che spesso ci fanno, se siamo noi quelli euroscettici o noi quelli che vogliamo smantellare l'Unione Europea, la risposta per me è quasi l'opposto di questa domanda, ovvero è in un'Europa che si sta già per colpa della sua stessa politica, sgretolando, occuparsi in modo serio di possibili alternative ma anche di soluzioni nella permanenza nell'Eurozona è qualcosa che solamente un gruppo politico responsabile può fare, noi stiamo cercando di fare. Oggi parlare di Europa, parlare di Eurozona, parlare di multilateralismo è qualcosa di fondamentale. Noi in un contesto globale che vede oggi purtroppo un salto indietro di 50 anni, basta guardare anche alle immagini che ci arrivano dal Nord Corea ma anche dagli scenari medio orientali dove si è riaperto un fronte di guerra che sembrava sedato fino a poco tempo fa, vedere questo contesto e non porsi la domanda dove si sia sbagliato realmente è la risposta eclatante è nella mancata cooperazione tra popoli, allora farlo puntare al multilateralismo, puntare alla cooperazione è qualcosa che è alla base della politica estera di un gruppo politico che vuole portare l'Italia verso una stabilità e verso una stabilità nei rapporti sicuramente maggiore di quella che oggi abbiamo. I dieci punti del programma di cui vi enuncio su tanti titoli ovviamente poi ne parleremo trattavano di sonorità e indipendenza, ripudio alla guerra, disarmo come premessa alla pace, riforma della Nato un'Europa senza osterità nuovi scenari delle ansie per l'Italia Russia è un partner economico e strategico contro il terrorismo risoluzioni di conflitti in Medio Oriente smantellamento della Troica e contrasti a dati internazionali come il TTIP e il CETA. Come vedete c'è una grande parte che riguarda l'Europa e la struttura europea quindi tutto il mondo anche finanziario e poi la parte che riguarda la cooperazione è il Medio Oriente oltre a tutta l'Euroasia e l'Asia stessa. Perché? Perché appunto dicevamo oggi siamo in una realtà totalmente globalizzata e interconnessa e crediamo che il grande errore sia stato fino ad ora far finta di non vedere una parte del mondo che al di là delle nostre scelte stava tornando egemone e forte per poter essere un interlocutore. Noi abbiamo valutato in questi mesi quale fosse la più grande rivoluzione possibile in politica estera e sembrerà banale ma oggi la più grande rivoluzione credo che sia osservare in modo pedistico e preciso i dettami della Carta delle Nazioni Unite qualcosa che tutti abbiamo firmato ma che appare in modo lampante con la nuova crisi siriana nessuno rispetta da nessun punto di vista. Parliamo di autodeterminazione dei popoli quindi di uno dei tre principi delle Nazioni Unite come principio fondamentale crediamo che e l'abbiamo detto più volte un dittatore debba essere distribuito dal suo popolo e non dalle bombe straniere crediamo che ogni popolo abbia diritto a decidere del suo futuro e non debba certamente essere un'alleanza straniera a decidere per il futuro di nessun altro e i casi come l'Iraq i fallimenti non chiamiamoli con parole leggere come caso o crisi i fallimenti delle coalizioni in Iraq in Afghanistan in Libia e probabilmente quello che sarà anche la Siria sono dei casi lampanti di errori fatti con la supponenza di chi pensava di poter imporre un modello piuttosto che un altro quando poi invece si è scoperto che l'unica cosa che si stava imponendo era la gestione delle risorse spesso energetiche da parte di chi magari le stava perdendo in quel momento diritti dell'ONU il rispetto dei diritti umani dei diritti internazionali per noi è fondamentale e qui attacchiamo subito un altro degli argomenti molto forti in questo momento come ci si rapporta con dei paesi che vi erano i diritti umani noi non abbiamo mai nascosto il viso davanti ad alcune circostanze abbiamo denunciato in aula e nei nostri atti parlamentari più volte le violazioni ad esempio commesse dai Saudi quindi l'Arabia Saudita che in questo momento sta bombardando lo Yemen nel silenzio collettivo come abbiamo denunciato le segnalazioni recenti delle ONG che agiscono in Cecenia relativamente alla violazione dei diritti LGBT come le abbiamo denunciati in passato relativamente all'Iran o ad altre circostanze anche molto più vicine a noi crediamo che sia anche giunto il momento però di interrompere di bloccare questo velo di ipocrisia che rende una violazione del diritto meno violazione di un'altra vediamo ripeto in tutti questi scenari stesse violazioni ma con esposizione mediatica differente probabilmente il segreto tra un dirittatore e l'altro è quanto sia vicino all'Occidente o meno e questo è un velo di ipocrisia che va necessariamente smantellato crediamo fortemente in un nuovo mondo di alleanze in un multilateralismo reale e vi faccio una vi dico anche il perché noi abbiamo sempre detto di essere e di sentirci fortemente dei rappresentanti del popolo italiano dei portavoce del popolo italiano e come tali dobbiamo farne gli interessi abbiamo affrontato per tanti anni ormai la questione l'esempio delle sanzioni nella Russia e abbiamo detto in modo forte e chiaro che le sanzioni per come sono state articolate sono un problema qualcosa che ostacola semplicemente la capacità economica del nostro paese certamente non colpiscono Putin perché non state pensate per colpire lui come nell'esempio non hanno mai colpito Assad le sanzioni alla Siria che hanno invece provocato centinaia di migliaia di morti civili per mancanza di geni di prima necessità e allora crediamo che un mondo nuovo e multipolare possa garantire un dialogo anche con delle realtà mi vengono in mente noi abbiamo ospirato anche le conferenze al riguardo le alleanze dei paesi Alba oppure i paesi Brics con i quali ad oggi non parliamo e vi do un dato che è significativo questi paesi i paesi Brics rappresentano 5 miliardi dei 7 miliardi della popolazione globale quindi oggi la politica estera italiana schiacciata come su un asse potremmo definirlo per riconoscenza forse ancora dopo 70 anni ci sta schiacciando anche a livello economico e di possibilità di espansione del nostro paese i cittadini italiani questo l'hanno capito molto bene ed è per questo che gran parte di loro non accettano alcune politiche come quelle appunto delle sanzioni alla Russia e su questo punto vorreste affermarmi ancora di più visto che è stato un punto molto all'attenzione anche della stampa sui nostri rapporti con la Russia e con le nostre posizioni prima di tutto prima di tutto noi non amiamo parlare di Trump o di Putin noi parliamo di Stati Uniti e di Russia perché crediamo che gli interlocutori nostri che siamo un piccolo paese tra due enormi blocchi un piccolo paese tra due enormi blocchi il nostro interesse sia il rispetto degli interessi degli cittadini italiani e soprattutto la stabilizzazione di un'area intera che è l'area del Mediterraneo allargato che ha un riscontro immediato dagli attriti e dalle violazioni che ci sono da parte di questi due interlocutori e allora per noi essere un buon interlocutore sia degli Stati Uniti dell'America che della Russia è qualcosa di fondamentale pensare che si possa fare una politica estera oggi escludendo uno di questi due attori significa non avere contezza di quello che sta avvenendo ad esempio in Siria o in Nord Corea o in generale in tutto il Mediterraneo allargato c'è anche la questione oltre la stabilità c'è anche la questione del terrorismo nella lotta al terrorismo qualcosa di cui si parla in modo aperto ormai anche in seno all'intelligence italiana ma nei consessi dove l'intelligence si esprime è quello di una cooperazione reale dell'intelligence c'è da ovviamente scardinare le problematiche relative alla sovranità nazionale quindi come farle cooperare senza violazioni diciamo reciproche ma oggi il tema dell'intelligence collettiva è un tema assolutamente fondamentale e la Russia è certamente un partner anche da questo punto di vista e quindi alla domanda con Mosco con Washington noi rispondiamo da sempre in modo chiaro con il popolo italiano e soprattutto contro la guerra in questo caso più che mai crediamo che nei rapporti con questi paesi non si possa non si possa prescindere dal rispetto che questi hanno degli organi internazionali di cui facciamo parte dobbiamo dirlo in modo molto chiaro siamo arrivati in un momento storico nel quale noi abbiamo iniziato a interrogarci già anche nel nostro programma poi ne parlerà anche il senatore Lucidi della nostra appartenenza da alcune organizzazioni ma sono queste stesse organizzazioni che dovrebbero porsi la domanda cosa stanno diventando perché quando sia le Nazioni Unite che la Nato non danno l'ok a un intervento militare e un paese membro lo compie lo stesso mi viene in mente la Francia nel 2011 o gli Stati Uniti in Siria qualche settimana fa vuol dire che c'è un virus enorme nella nostra appartenenza ad alcuni organi che vengono ripetutamente scavalcati allora anche questo fa parte del nostro programma e se ne discute crediamo che riportare questo su tutto riportare i cittadini al centro delle decisioni anche della politica estera sia fondamentale nel motivo per il quale noi parliamo molto spesso di parlamentarizzazione dei processi quindi di riportare le scelte all'interno del Parlamento un Parlamento che al di là di mettere i soldi sulle missioni internazionali non ha nessuna scelta ad oggi questo per noi è intollerabile e anche di questo si parla nel nostro programma lascia Grazie a tutti.